Eccomi qua, sorprendentemente come promesso ho fatto i video del torneo, il torneo è andato bene, sono arrivato a sedicesimo su 200 squadre nel 4x4 maschile su beach volley. Ho giocato come alzatore, wow, perché era necessario. E quindi nel video vedete tanti recuperi e tanti muri ma poche schiacciate. Spero che comunque vi piaccia e godetevi al spettacolo. Ciao! Ciao! Grazie 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 Luca!